Buonasera, Leos Janacek è un autore che stiamo sempre più imparando a conoscere giustamente nel senso che si è rivelato negli ultimi 10-20 anni una tra le voci di maggiore interesse nel panorama della produzione operistica del Novecento, una scoperta che è un po' tardato a venire ma qui bisogna dire anche Torino ha dato qualche contributo nel senso che Torino ha dato le prime italiane di diverse opere, prima con la RAI che diede Ienufa da una casa di morti, il caso Macropulos e poi anche il Teatro Reggio a partire dagli anni 60 ha cominciato con una certa rarità a dare titoli. Ricordo per esempio un famoso caso Macropulos con la regia di Ronconi che una decina di anni fa più o meno è stato anche ripreso alla scala. In questi anni un nuovo progetto che è cominciato l'anno scorso con La piccola volpe astuta vedrà sul palcoscenico un trittico di opere di Janacek con la regia di Robert Carson, uno dei principali più importanti, originali e significativi e ogni parola buona che si possa dire come regista ad opera. per cui l'anno scorso abbiamo visto la piccola volpe astuta, quest'anno caccia cabanova. In Italia abbiamo uno dei massimi esperti europei sicuramente di Janacek che è nato a Torino, Franco Polcini è nato e si è formato a Torino alla scuola di Mila e di Pestelli, che è anche in sala, che salutiamo, insegna al conservatorio di Milano dal 1979, è direttore editoriale della scala e come terzo mestiere, perché ormai sta diventando un vero e proprio mestiere, è anche scrittore. L'ultimo suo libro, Il delitto alla scala, è un successo editoriale proprio di questi ultimissimi mesi e in anteprima possiamo dire che verrà anche presentato a Torino il 24 aprile al circolo dei lettori, 26, è una cosa freschissima, nessuno lo sa se non vuoi. Quindi grazie Franco Polcini per essere tornato qui, attendiamo la tua versione di caccia cabanova. Grazie. Ringrazio molto Simone Solina, il mio collega del Teatro Regio e sono naturalmente molto felice di venire a parlare nella città in cui sono nato e in cui mi sono formato venendo in taxi da Porta Susa, sono passato davanti a via Sarotti, ho detto al taxista, in questa casa sono vissuto fino a 55 anni fa. mi ha fatto un po' impressione, no? E come dice Proust, noi non siamo persone, siamo dei mostri che percorrono con passi giganteschi, ere e epoche, completamente diverse l'una dall'altra. Mi fa piacere, però sono anche un pochino imbarazzato perché ho l'impressione, data la media culturale dei torinesi, di dire molte cose che molti sapranno già. e in particolare nel caso di alcune delle persone che ho incontrato, dire delle cose completamente inutili che loro sanno già perfettamente, perché Janacek comincia a essere un autore ben conosciuto ai torinesi, grazie alla Volpe Astuta, grazie a questo ciclo di opere janacechiane che Gaston Fournier, che è stato mio collega alla Scala per molti anni, ha voluto in questa città che ha tutti gli strumenti culturali per comprendere un compositore così importante. Di Janacek noi sappiamo che è un artista più vecchio di quattro anni di Giacomo Puccini e che però scrive una musica che pare scritta da un possibile figlio di Puccini, cioè è un compositore che ha uno stile che pare della generazione successiva, se voi pensate che era dieci anni più vecchio di Richard Strauss, naturalmente un genio straordinario, la cui musica però è molto più legata all'Ottocento rispetto a quella di Janacek che è invece così innovativa. Adesso dirò solo qualche piccola cosa sull'autore prima di parlare dell'opera e cercherò di raccontarvi anche la vicenda del dramma di Katia Cabanova in maniera abbastanza esaustiva. Janacek lui aveva cominciato come folclorista, era nato nel 1854, era stato portato come una specie di pollicino slavo, era stato in qualche modo abbandonato dalla famiglia, consegnato, lui era nato ai confini con la Polonia, nella Moravia Montana, ed era stato portato a Brno, la Brun dell'impero austro-ungarico, la città dello Spielberg, quando aveva undici anni, e lui è stato educato al repertorio classico quando era giovane, dirigeva la Messa Solenne, dirigeva il Requiem di Mozart, e il suo maestro, che si chiamava Pavel Krzykowski, uno di quei nomi talmente impronunciabili che per poterlo fare bisogna starnutire, aveva iniziato a comporre cori tutti basati su composizioni folcloristiche, quindi era uno dei tanti folcloristi che seguiva la scia, come dire, russa, la tradizione glinchiana del fatto che i compositori altro non devono che arrangiare una musica che il popolo ha composto, il popolo ha in qualche modo selezionato, e questa deve essere la materia vitale di cui deve essere nutrita, nutrita anche la composizione classica. E lui quindi faceva anche il raccoglitore di canti, e si rese conto che questi canti folcloristici avevano delle melodie strettamente legate alle poesie popolari e ritenne che in realtà questi canti folcloristici altro non erano che la amplificazione, la, come dire, la prosecuzione musicale di quelle che sono le nostre melodie, le melodie che noi inconsciamente intoniamo parlando. La nostra voce non parla tutta quanta nel medesimo registro, e soprattutto quando un'emozione ci prende, la nostra voce oscilla, ha come dei piccoli dolori, dei piccoli traumi, e questi traumi emozionali che si traducono così inconsciamente mentre noi parliamo rappresentano probabilmente l'origine stessa delle melodie, e l'origine stessa della musica. E qui ebbe questa particolare intuizione di nutrire quello che era il proprio stile e nello stesso tempo però anche lo stile del suo tempo, perché lui era uno che aveva fatto studi. Però ha scelto di non fare il compositore che scrive la sua musica a partire dall'altra musica, ma a partire da basi più antropologiche. Quindi ha riscritto, ha cercato di redarre una specie di vocabolario delle emozioni musicali derivate dalla parola e ha inventato un suo stile aforistico, uno stile fatto di piccole schegge melodiche, di quasi frammenti musicali, che sono andati a nutrire questo suo stile, che poi è divenuto uno stile operistico, e per questo la sua musica è anche così originale. Detto questo, un altro aspetto fondamentale del personaggio di Janacek è quello del forte allontanamento che lui aveva nei confronti della cultura austro-tedesca, perché lui viveva a Brno, che faceva parte dell'impero austro-ungarico, fin quando, dopo la prima guerra mondiale, non è stata formata la Repubblica della Cecoslovacchia, lui di fatto viveva nell'impero austro-ungarico. E in generale i filoslavi avevano una certa predilezione per la cultura russa, e lui stesso era un grande appassionato di cultura russa, e aveva fondato un'associazione per lo studio e l'approfondimento della lingua e della letteratura russa. Infatti l'opera che voi andrete ad ascoltare è tratta da un pezzo di teatro, del grande teatro classico russo dell'Ottocento. Però non è il solo caso. Lui ha anche scritto un quartetto per archi, ispirato al romanzo breve, la sonata Kreuzzer di Tolstoi. ha scritto un poema sinfonico, diciamo una rapsodia sinfonica, tratta dal romanzo breve di Gogol, Taras Bulba, poi c'è Katia Kabanova, che è tratta dall'Uragano di Ostrowski, e ci sarà poi l'ultima opera, tratta da un libro di memoria, una sorta di romanzo autobiografico di Dostoevsky, che sono le memorie da una casa di morti. Mi sembra che sia il settimo dei 14 romanzi di Dostoevsky. Ecco, quindi non solo, ha scritto anche un pezzo per violoncello e pianoforte che si chiama Pohatka, che è tratto da una fiaba russa. Quindi il mondo russo era molto studiato da Janacek, che essendo il cieco una lingua slava, non vicinissima, però anche non lontanissima dal russo, sapeva anche leggere, aveva anche la possibilità di leggere in lingua originale la letteratura russa. Sua figlia Olga anche aveva studiato, aveva studiato e approfondito il russo, ha fatto anche, e lui stesso ha fatto una volta un viaggio in Russia. Ecco, quindi la Katia Kabanova fa parte dell'aspetto russo di Janacek insieme alle memorie da una casa di morti. Poi, naturalmente, voi avete già avuto modo di apprendere che Janacek è anche legato a questo mondo un po' soprannaturale della cultura cieca. Quindi c'è la volpe astuta, questo con gli animali parlanti, chi ha visto una ventina di anni orsono la fare Macropulos qui al Teatro Regio con Raina Kabayvanska, sa che c'è anche questa opera con la cantante che vive 337 anni. Poi c'è un'opera che viene data poco che si chiama I viaggi del signor Brocek sull'alluno, un altro elemento di carattere soprannaturale. Ecco, quindi la poetica di Janacek è anche abbastanza complessa. Ci sono poi invece soggetti legati alla campagna, come nel caso della Ienufa. e con questo in qualche modo si completa la serie delle opere delle opere importanti di Janacek, salvo che ormai si stanno scoprendo anche altre opere poco date. Io ricordo che quando studiavo qui all'università feci uno studio sulle opere teatrali inedite di Janacek tra cui c'era questa famosa Destino che allora era inedita, poi è diventata edita. Oggi la mette in scena Bob Wilson, quindi è un autore che è in continuo fermento. Riguardo la figlia, volevo dirvi ancora un'altra cosa. Voi pensate che l'emotività che questo autore metteva nello studio delle sue melodie parlate lo portò addirittura a scrivere le melodie che sua figlia Olga pronunciava nelle ultime parole dette sul letto di morte perché questa povera ragazza si ammalò gravemente e morì di febbri e lui sulle parole scritte sul letto di morte da lui ascoltate pronunciate dalla figlia scrisse poi una elegia. Ecco, noi in realtà non sappiamo che uso lui facesse di queste melodie che lui riteneva di sentire nel modo in cui le persone parlano. Sappiamo solo che si appostava come una specie di fotografo indiscreto dell'anima e cercava di auscultare diciamo le inflessioni del nostro modo di parlare cercare di intuire che cosa stava nel fondo del cuore delle persone mentre parlavano non tanto dalle parole che dicevano ma nel modo in cui queste parole venivano intonate. Parliamo di Katia Cabano perché poi voi siete qui per questo voi dovete in qualche modo venire a capo dell'ascolto di questa opera. Lo spettacolo di Robert Carson è uno spettacolo meraviglioso è stato dato alla scala una decina una decina di anni fa con un grandissimo successo. Io so che quando è stato messo in scena l'opera nessuno sapeva che cosa fosse i biglietti erano a metà delle vendite appena hanno iniziato a vedere le prime le prime repliche hanno bruciato praticamente tutti i biglietti possibili per cui le ultime repliche sono andate tutte completamente esaurite per la per la bellezza meravigliosa di questo di questo spettacolo. io conosco Robert Carson da molti anni e so che non devo dire assolutamente niente del suo spettacolo perché se lo viene a sapere si arrabbia non vuole mai che venga detto nulla dello spettacolo e quindi io vi dico solo che è uno spettacolo bellissimo bellissimo da un punto di vista simbolico e soprattutto anche molto aderente a quella che è la storia di Katia Cabanova di che cosa parla Katia Cabanova adesso prima parliamo un po' della storia e poi vi spiegherò come la storia viene raccontata tramite l'arte dei suoni vi spiegherò vi dirò qualcosa di come Katia Cabanova viene raccontata il titolo dell'opera non dell'opera del pezzo teatrale di Aleksandr Rostrovski è originale russo è Grasà Grasà in russo significa tempesta però significa anche come dire una sorta di terrore di spavento una specie di orrore un qualcosa di un cataclismo terribile e si chiama Grasà perché il personaggio principale cioè Katia Cabanova durante una temporale durante una tempesta essendo un pochino potremmo dire meteopatica una persona che come dire soffriva soffriva particolarmente le 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 intemperie in qualche modo riuscivano ad agire sulla sua volontà e sulla sua coscienza confessa di essere stata adultera è una storia di un adulterio scoperto per la fragilità potremmo dire meteopatica della protagonista la storia di Katia Cabanova è una storia che ci riporta alle zone rurali della Russia ottocentesca intorno al Volga i russi del Volga si sentono dei russi particolari Yuri Liubimov era del Volga diceva noi del Volga siamo russi unici naturalmente sono zone molto lontane dalle capitali molto lontane dalla Russia più civilizzata per cui sono anche zone in cui dominano il diciamo la società le 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 classi dei mercanti i quali hanno come dire sono spesso definiti con una parola russa che è samodurstva samodurstva in russo vuole dire un'attitudine a una persona ad essere terribilmente testarda terribilmente despota terribilmente arrogante terribilmente rissoso terribilmente feroce insomma tutta una serie di questioni che riguardano l'ignoranza e la protervia delle persone la classe dei mercanti viene appunto definita e raccontata molto spesso dal teatro di Ostrovski che però non è l'unico ad avere puntato il dito contro questa classe adesso io non ricordo da quanti anni non si faccia qui da voi la Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Shostakovich non mi ricordo quando è stata fatta un bel po' mi dice l'ingegnere Verga e anche quella è appunto una storia di bassezze contadine della classe delle classi dei mercanti classi arroganti violente e che però naturalmente la storia di Katierina Ismailova nella Lady Macbeth come dice il titolo è la storia di una donna che si sa abbastanza difendere a differenza invece della Katia Cabanova di Ostrovski che è una donna invece al contrario fragilissima ci sono delle bellissime frasi di Janacek riguardo questo questo personaggio Janacek che era un uomo estremamente poetico e quest'opera la scrisse per una donna di cui lui si era fortissimamente invaghito che aveva una quarantina di anni meno di lui che si chiamava Kamila Stoslova ed era una signora sposata con un antiquario di Pisek con due figli che divenne una specie di sua musa alla quale lui dedicava tutte le tutte le sue opere e ovviamente sebbene ci fosse una certa differenza d'età in qualche modo cercava di avere una una relazione con lei che andasse al di là di una relazione epistolare su questo tema ci sono varie ipotesi pare che invece insomma dire ci fosse una una come dire un amore esclusivamente platonico però lui piaceva l'idea di come dire cogliere in questa donna il dramma che ha la donna nel momento in cui vorrebbe essere infedele al proprio marito per inseguire invece una un un nuovo amore e di tutte le come dire le reticenze che invece ha nel nel praticare nel praticare poi l'adulterio scrive Janacek ho cominciato a scrivere una nuova opera il personaggio principale è una donna di animo dolce e gentile ella svanisce al solo pensarla un alito di vento la spazzerebbe via figuriamoci la tempesta che scoppia sul suo capo questo lo scriveva nel 1920 proprio mentre stava lavorando a Katia Cabano che verrà poi completata e andata in scena nel 21 scrive ancora la protagonista la protagonista una giovane donna è di animo così delicato che temo che se il sole splendesse troppo forte su di lei si scioglierebbe sì ella si dissolverebbe sapete un animo così tenero così sensibile poi continua ho terminato un'altra lettera nel 21 ho terminato la mia nuova opera dopo un lavoro eccezionalmente stressante non so se intitolarla l'Uragano o Katierina a sfavore dell'Uragano c'è il fatto che esiste già un'altra opera con lo stesso titolo e a sfavore di Katierina è che non scrivo altro che opere femminili Yennufa Katierina a proposito di titoli sarebbe meglio mettere tre asterischi faceva lo spiritoso sapete quando vi conobbi all'Uaciovitz durante la guerra e capì per la prima volta quanto una donna possa amare il marito ricordo le vostre lacrime questo è il motivo per cui scelsi Katia Kabanova e la composi ecco probabilmente lui in qualche modo si faceva avanti e lei diceva no non posso tradire non posso tradire mio marito piangeva e insomma dobbiamo immaginarci insomma questa la situazione di un uomo che è molto interessato alla tematica di una donna che sta resistendo con tutte le proprie forze al fatto di tradire il marito ed è proprio questo il tema il tema dell'opera lo strazio di una donna che fa di tutto per cercare di non tradire il proprio marito anche se in realtà lo desidera lo desidera fortemente allora in quest'opera ci sono personaggi terribilmente negativi e personaggi invece che potremmo dire non positivi però comunque dei personaggi che subiscono la violenza di questi personaggi negativi il personaggio negativo è la suocera non sarà originale però è molto riuscito come personaggio il personaggio sarebbe il personaggio della Cabanica la Cabanica sarebbe la suocera di Katia Cabanova e invece Chichon è suo figlio e per cui Cabano Cabanova è il cognome di acquisto di Katia di Katia l'opera ha quindi come personaggio terribilmente negativo questa Cabanica cioè la suocera e poi ce n'è un altro un altro personaggio che è anche lui di questa serie dei mercanti che si chiama Gikoi Gikoi in russo significa selvaggio una persona una persona in qualche modo anche questa estremamente negativa questi due personaggi tengono nelle mani il potere e in qualche modo anche impugnano saldamente i cordoni della borsa i cordoni del denaro questo Gikoi in particolare tiranneggia in una maniera pazzesca il proprio nipote che si chiama Boris questo Boris ha avuto la sfortuna di avere parenti che gli avevano lasciato una una eredità sub condizione di ubbidire sempre allo zio Gikoi allo zio selvaggio il quale ovviamente approfitta ed essendo una persona appunto ignorante proterva tutte queste cose che vi ho detto prima fa di tutto per cercare di rendere la vita impossibile a questo povero giovane il quale lui di suo preferirebbe persino rinunciare all'eredità andarsene finalmente a Mosca c'è il famoso a Mosca a Mosca come dire nelle campagne russe non si riesce a vivere a vivere normalmente e a Mosca finalmente riusciamo invece a vivere a farci a vivere con un'autentica un'autentica libertà ma non lo può fare perché in questo caso verrebbe diseredata anche la sorella e quindi essendo diseredata anche la sorella non potrebbe più sposarsi insomma tutta una questione per cui la tirannia di questo Gikoi vive ed è sempre ed è sempre più forte allora riassumendo abbiamo questi due personaggi negativi la suocera Cabanica ed Ikoi lo zio lo zio tiranno poi abbiamo Tichon Tichon tra l'altro Tichy è una radice slava che vuol dire colui che sta zitto che è silenzioso Tichon è la persona che subisce come dire l'autoritarismo di questa suocera che continuamente che continuamente lo strapazza e in particolare lo strapazza come dire questa Cabanica anche come parla è come se fosse una persona che riesce a far parlare a far parlare il suo animo più insopportabile appena entra in scena comincia a dire tu non mi ha non vuoi più bene a tua madre tu non rispetti tua madre da quando ti sei sposato con questa qua non non mi ami più e non mi devi il rispetto che mi devi non me lo porti e se la povera Katia comincia a dire qualcosa tipo no ma non è vero guarda che Tichon vi vuole bene immaginatevi la risposta quale potrebbe essere tu sta zitta fatti i fatti tuoi eccetera eccetera una situazione veramente insopportabile quindi poi abbiamo naturalmente Tichon il marito di Katia è un uomo oltre che essere imbelle è anche un ubriacone oltre che ubriacone e ovviamente succube della madre è fatale che le due vittime di questi due di questi due personaggi terribilmente negativi finiscano per attrarsi i due personaggi vessati i due personaggi perdenti è fatale che si amino che finiscano per amarsi noi sappiamo già fin dall'inizio che Boris è innamorato perduto di questa Katia Cabano alla quale non ha mai rivolto la parola e che non pensa ad altro che a lei e si confida con un personaggio di cui non vi ho ancora parlato e che si chiama Kudriash questo Vanya Kudriash è un maestro diciamo l'unica persona istruita del luogo è uno che è anche un chimico meccanico è uno che uno che sa che per esempio i fulmini rappresentano delle scariche elettriche e non delle vendette divine come pensano di Koi e la Cabanica e l'unico in qualche modo rappresenta un po' il lettore la coscienza moderna delle persone che vedono questa curiosa situazione e questo Kudriash è infatti la persona con cui si confida Boris riguardo al loro amore e c'è poi un ulteriore personaggio che si chiama Varvara questa Varvara è la sorellastra di Tikhon praticamente era una ragazza che era stata adottata dalla famiglia per cui è un'adottata però molto particolare perché è una ragazza che non subisce per nulla la tirannia della Cabanica cioè è una ragazza terribilmente astuta e che ha un senso di indipendenza e di libertà assoluta nei confronti della famiglia ovviamente pur facendo tutto quanto di nascosto tra l'altro nella Russia di quella zona dicono le persone che lo sanno vigeva una specie di consuetudine particolare per cui le ragazze non sposate avevano una notevole libertà anche una libertà amorosa pur che non si mettessero nei pasticci non combinassero cose potevano insomma erano libere viceversa le donne sposate avevano una una vigilanza stretta ovviamente perché non volevano che nella famiglia in qualche modo nascessero dei figli diciamo non quelli che le nozze dimostrano insomma noi stiamo dando il don Carlo alla scala voi sapete che la regina Elisabetta doveva sempre avere dietro una damigella che controllasse chi frequentasse nei momenti in cui non era col marito ecco una cosa del genere quindi c'era c'era un controllo un controllo molto stretto questa Barbara quindi ha capito perfettamente la situazione e tenta fortemente Katia ha capito che questa Katia è innamorata di un altro ha capito che suo fratellastro è un marito inadeguato per questa donna e allora gli dice ma tu è il tuo compagno questo di cui sei innamorato potreste incontrarvi potreste vedervi e in qualche modo combina l'incontro adesso io volevo farvi un attimo sentire un pezzettino prima di proseguire la 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 chiacchierata così magari cominciamo a dire qualche cosa del del problema del problema delle delle melodie parlate sentiamo solo l'inizio orchestrale del dell'opera poi quando cominciano a cantare sfumeremo e possiamo dire anche qualcosa del tematismo voi sentirete immediatamente questa questa orchestra come dire che sorge un po' acquatica dal nulla e poi sentirete improvvisamente un timpano all'acuto che scandisce quattro note e poi quattro altre note queste questa questa figurazione pam 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 quindi praticamente una specie di cadenza potremmo dire in realtà non sono altro che le parole di Cattierina Cabanova Cattierina Cabanova pa 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 queste quattro note si ripeteranno continuamente nel corso dell'opera quasi una specie di sigla dell'opera stessa nel momento in cui ci sarà per esempio la confessione questi suoni ci sono ugualmente e vi dico subito una cosa tanto per non raccontare tutta la trama tutta ad un colpo che questa opera di Janacek ha naturalmente dei temi ma questi temi non sono come quelli di Wagner in cui in generale quando c'è il tema della spada è legato alla spada quando c'è il tema del corno di Sigfrido è legato al corno di Sigfrido eccetera sono temi che sono invece potremmo dire polisemantici cioè la scrittura di Janacek lui ha tutta una serie di temi che utilizza nell'opera però uno stesso tema con un'orchestrazione diversa può andare a caratterizzare situazioni diverse adesso magari poi vi posso fare vi posso fare un esempio tanto per capire che la musica di Janacek assomiglia forse più a quella di Puccini che non a quella di Luigi IX sentiamo questo questo inizio ecco qui poi comincia comincia l'azione in cui si vede il maestro Kudriash il quale si mette a contemplare il Volga il Volga è come dire per usare uno simoro incombe sullo sfondo di questa di questa vicenda non c'è una scena in cui il Volga in qualche modo non venga citato o non sia in qualche modo presente e l'opera inizia proprio con lui che dice io continuo a guardare il Volga non mi stuferò mai di osservare l'acqua del Volga proprio quella stessa acqua con cui Robert Carson invaderà il palcoscenico del Teatro Reggio con 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 proprio per far vedere che l'elemento acquatico è il più è il più importante di questa di questa vicenda ecco avete sentito come lo stile lo stile di Anace che è fatto di piccoli incisi che sono sono temi che non sono non so un tema di Bellini o di Rossini dei temi lunghi dei temi sono invece degli incisi dei piccoli frammenti delle delle schegge di musica che si giustappongono che si che si mettono una una di seguito all'altra con cui si costruisce questo questo mosaico estremamente espressivo e passionale del 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 suo del suo dettato musicale ecco la la il momento in cui la Barbara quindi la la sorellastra del marito di di Katia tenta tenta la la moglie di la moglie di suo fratello e è il momento in cui lei stessa ha confidato il fatto di desiderare di tradirlo c'è una scena molto bella che è nel primo atto di cui magari vi faccio sentire vi faccio sentire un passo in cui lei racconta della sua della sua fede lei racconta che innanzitutto comincia a raccontare che era molto più felice quando non era sposata tanto per cominciare dice quando ero libera e spensierata ora mi sembra di appassire quella dice beh non credete che non me ne sia accorto era tutto più diverso vivevo senza problemi come un uccidino all'aria aperta poi racconta che lei andava in chiesa che aveva delle estasi mistiche e che vedeva la luce che entrava tra le vetrate delle chiese insomma ha tutte queste immagini di di religiosità in cui lei cadeva in ginocchio pregava e la trovavano che continuava a piangere e pregare insieme e e poi a un certo punto come dire alla fine del discorso dice sì però adesso è diverso perché sento delle voci che mi mormorano delle cose penso a delle cose ma non è mio marito insomma naturalmente Barbara che invece è una ragazza particolarmente russa e particolarmente spigliata riguardo riguardo certi temi immediatamente fa sì che la per di far realizzare i sogni della della povera e inibita Katia questa scena è abbastanza interessante perché implica in qualche modo una specie di avvicinamento di 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 Anacek al mondo dell'impressionismo ci sono delle sonorità che ricordano molto il mondo di Debussy lui naturalmente conosceva per le assemelisande anche se lui ha sempre detto che lui ha agito indipendentemente da Debussy che lui ha teorizzato l'indipendenza degli accordi prima di Debussy in effetti qualche cosa in questa scena ci dovrebbe ci dovrebbe essere e così ascoltiamo un attimo quell'inizio di questo quadro secondo cioè l'aspetto più tenero e più religioso di Katia poi non arriviamo a in tempo a quando lei confessa in realtà di avere fortissime tentazioni ma era per cogliere un po' questo aspetto un po' impressionistico dell'arte di Janacek che in quest'opera peraltro segna il suo maggiore avvicinamento allo stile musicale di Puccini è un Puccini molto più contratto più veloce più così che risolve tutto in un soffio anziché in una lunga melodia come faceva Puccini ma in effetti la stessa Katia è un personaggio un po' pucciniano quindi la figura di una donna dolente l'immagine del grande dolore in un piccolo cuore si attaglia perfettamente a Katia ecco l'inizio è quello dice sai cosa stavo pensando perché gli uomini non volano mi chiedevo perché noi non possiamo volare con gli uccelli non occorre essere Sigmund Freud per immaginare se una donna desidera desidera volare quale sia il desiderio il desiderio che che in qualche modo inconfessabile la cui traduzione è il volare esisteva anche un libro che si chiamava Paura di volare ma io non l'ho letto naturalmente sentiamo questa è tutta la parte in cui racconta di quanto era felice di quali situazioni quali misticismo provava nell'andare in chiesa sentiva cantare gli angeli e diciamo tutta una serie di sensazioni che riguardavano che riguardavano la sua la sua fede voi quando avete ascoltato il primo esempio musicale a un certo punto avete sentito delle specie di sonagli in cui c'era questo tema di Caterina Cabanova che diventava come una specie di trotto questo è uno dei temi in cui vediamo il tema che sarebbe quello di Caterina Cabanova che in realtà è divenuto il tema del carro del carro trainato dai cavalli che porterà via Tihon in quanto la vecchia Cabanica ha ordinato al figlio di andare al mercato di Kazan e lui dovrà assentarsi per una decina di giorni e siccome c'è una scena estremamente interessante da un punto di vista psicologico perché Katia quando sente che il marito deve andare al mercato di Kazan e lo sente dopo che Barbara gli ha detto ma perché non vi potete vedere con quell'uomo che tu stai sognando di notte lei chiede al marito di portarla con lei oppure di farle giurare che non rivolgerà la parola a nessuno e lui rimane un po' stupito per queste profferte anche se forse avrebbe potuto arrivarci e dice ma perché mi chiedi queste cose che sono cose che non che senso ha che tu mi chieda queste cose insomma lei è presa da questo terribile tormento e turbamento dal fatto di essere lasciata sola e naturalmente arriva la suocera a guastare tutto nel senso che arriva e dopo che lei non ha voluto fare questo giuramento che lei stessa chiedeva al marito di farle fare glielo impone invece lei cioè gli dice allora tu prima di partire per il viaggio dai istruzioni a tua moglie su come si deve comportare che deve essere ubbidiente nei confronti di tua madre dille in particolare di dare troppe occhiate dalla finestra e soprattutto di non guardare gli altri giovanotti e lei deve ripetere tutte queste cose davanti alla madre e dopo che c'è stato questa specie di giuramento forzato questa promessa forzata che lei stessa aveva chiesto che invece le viene fatto dare dalla madre dice beh adesso potete congedarvi e loro naturalmente non hanno più niente da dire e alla fine del primo atto sul tema che voi avete già sentito il tema dei 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 cavalli il tichon parte per il viaggio che sarà che sarà per 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 lui e per la moglie fatale il secondo atto che è naturalmente bellissimo anche 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 questo abbiamo il famoso il famoso adulterio la povera la povera Katia Cabanova è una specie di Madame Bovary dell'epoca del volga naturalmente quando il marito è partito la cabanica tiranneggia la nuora dicendole tu dovresti fare scene visto che non c'è tuo marito dovresti piangere tutto il giorno buttarti per terra sul pavimento dell'atrio invece tu come se niente fosse e naturalmente noi vediamo il in qualche modo la differenza fra queste due donne cioè una donna che non fa altro che avere una terribile difficoltà se deve mentire cioè Katia Cabanova è una donna che non sa mentire che non riesce a vivere nella menzogna invece la la suocera è una donna che ha istituzionalizzato la vita all'interno all'interno della della menzogna comunque voi poi seguirete bene la traduzione userete la traduzione della scala che è quella che ho fatto io dieci anni dieci anni fa e molto fedele al testo anche nella inversione delle parole in maniera che insomma voi come seguite stanno cantando se non è che dicono prima altre cose proprio se andate dietro bene alla vicenda dovreste riuscire a seguirla a seguirla molto bene ecco e questo secondo atto potrebbe anche essere interpretato come una sorta di casistica sul comportamento sessuale nella Russia dell'Ottocento perché abbiamo in qualche modo tre coppie che consumano in maniera così plateale in qualche modo un atto o una unione amorosa tutte e tre con comportamenti e con musiche soprattutto molto differenti cosa avviene prima che i due i due che avvenga diciamo la notte dell'adulterio dicoy il famoso selvaggio va a trovare questa questa cabanica e la va a trovare però in una maniera un po' particolare cioè arriva e come se in qualche modo si si presentasse a una donna verso il quale lui ha un'attrazione di tipo un po' masochistico quindi si presenta da questa da questa specie di strega dicendogli eh ti devo confessare una cosa io mi comporto sempre male però solo tu mi sai capire e lei dice certo perché siccome io sono vecchia quindi mi devi mi devi di ubbidienza insomma praticamente lui va si confessa confessa di avere avuto delle sorte delle sorte di male fatte e poi striscia fino fino da lei e si capisce che c'è qualcosa fra loro qualcosa di un po' torbido si potrebbe dire con una con una frase un tantino moralistica ricordo che una volta forse 40 anni fa vedi una Katia Cabanova a Vienna all'opera di Vienna in cui in questa scena proprio mentre questo vecchio Dico va e così si tormenta con lei che lo sta lo sta a sentire nella didascalia c'è proprio vuole stringersi a Cabanica quindi non è che sia una una trovata una trovata registica sì e poi la Cabanica in teoria tenderebbe un po' allontanarlo però insomma come dire la situazione è comunque abbastanza ambigua e mi ricordo che il regista faceva sì che mentre questo vecchio selvaggio strisciava ai piedi di questa Cabanica lei offriva allo sguardo i suoi mutandoni che arrivavano fino alle caviglie praticamente Carson utilizza un altro sistema ma io naturalmente non ve lo posso dire perché se no si arrabbierebbe moltissimo se viene a sapere quale tipo di approccio avviene fra i due ecco questo è un caso come dire di potremmo dire di comportamento sessuale amoroso un po' particolare gli altri due sono un pochino più normali perché cosa avviene in questa notte incantata sul Volga Barbara ha dato a Katia la chiave che gli dà il permesso di uscire di casa e ha fatto preparare dalla cameriera glascia dei letti per poter dormire in giardino al fresco ovviamente avendo la chiave del cancello loro possono uscire andare sulle rive del Volga con chi vogliono che viene da fuori e poi ritornare in casa chiudere la chiave perché lei aveva preso di nascosto sostituendola e ha dato appuntamento a Boris che sarebbe quello che era innamorato di Katia e a Kudriash che è invece il suo amico il suo fidanzato per cui insomma a turno le due coppie si appartano e ognuna insomma fa l'amore mentre Barbara e Kudriash sono due potremmo dire ragazzi allegri che la prendono come dire anche un po' sul divertimento cantano delle canzoncine popolari si appartano vanno tornano e loro due invece sono una coppia terribilmente tristaniana cioè una coppia che sa di che non sa da fare però lo fanno lo stesso anzi lo faranno per dieci notti consecutive ed è bellissimo l'incontro che avviene fra loro due io ho visto nel vostro programma di sala c'è un articolo del direttore d'orchestra in cui parla che i silenzi di Katia perché è un'opera in cui in effetti contano più i silenzi che non le esternazioni quando loro si vedono non sanno che cosa dire perché si amano ma non sanno come confessarselo e poi alla fine è lei che prende l'iniziativa e dice ma non ti rendi conto che io agisco contro la mia volontà e così alla fine si appartano mentre ci sono questi due che guardano l'orologio dicendo si sbrigheranno questi e si sentono loro che hanno questa loro notte d'amore in cui non fanno altro che parlare di amore e di morte e di amore che li porterà in qualche modo alla rovina e così appunto si conclude questo secondo atto che praticamente è una casistica di comportamenti amorosi resa musicalmente in maniera straordinaria vi volevo spiegare delle altre cose prima di raccontarvi il finale come è scritta questa opera da un punto di vista drammaturgico Janacek lui aveva preso in considerazione la traduzione fatta da un certo Cervinca del dramma originale di Ostrovski e aveva messo in musica il testo teatrale direttamente cioè tagliandolo in realtà è stato osservato che lui non l'ha messo in musica esattamente come era tradotto ma ha creato all'interno della all'interno della diciamo di questa sua versione tagliata tutta una serie di inversioni di parole di cambiamenti in maniera da realizzare in questa prosa tutta una serie di metri John Tyrrell la chiama la metricalization la metricalizzazione cioè è una prosa che in realtà contiene nascosti al proprio interno dei versi questi versi queste metriche sono metriche regolari per quanto riguarda i personaggi positivi o comunque i personaggi non cattivi e invece è terribilmente accidentata irregolare continuamente interrotta quando si tratta di personaggi negativi voi sentirete una specie di scansione anche nel cantare se anche voi non capite una parola e anche al limite voi non seguite neanche le melodie che cantano sentirete tutta una serie di ritmi regolari e piacevoli quando cantano personaggi buoni e sentirete invece dei ritmi asimmetrici un po' strani quando cantano i personaggi negativi ecco c'è una specie di alfabeto morse dell'inconscio che guida ritmicamente questa partitura costruita con una straordinaria meticolosità l'ultimo atto è quello della confessione voi sentirete prima i primi due atti e poi dopo l'intervallo ci sarà il terzo ed è quello della confessione su questa opera sull'uragano di Ostrovski è stata scritta un'altra opera da un autore che è stato per molti anni direttore del conservatorio di Torino che si chiamava Lodovico Rocca l'uragano è stata data negli anni 50 alla scala ed è una bellissima opera e che aveva diciamo nel momento della scena della confessione di Katia uno dei suoi momenti salienti Inghianacek invece il momento della confessione non è particolarmente sottolineato cioè si sa che appunto lei arriva e diciamo dopo che c'è stato dopo che c'è stato il ritorno il ritorno del marito Katia Cabanova si sente distrutta per il senso di colpa e Barbara si è accorta di questa vicenda e dicono qua accadrà qualcosa di terribile perché non solo il marito si è accorto ma anche con la vecchia Cabanica ha capito che c'è qualche cosa c'è qualche cosa che non va e avviene avverrà poi questa pubblica confessione Inghianacek questa pubblica confessione è molto veloce cioè lei arriva in scena e in pochissimi istanti fa tutta fa tutta questa confessione proprio perché in realtà il momento della confessione non è così importante per Iannacek Iannacek ha in realtà voluto molto di più analizzare l'animo i turbamenti i tormenti di questa fragilità femminile che rappresenta il nucleo centrale della poetica di Katia Cabanova che è un'opera sulla fragilità e nello stesso tempo sulla purezza femminile noi dovevamo sentire allora questa confessione che era il 4 del del secondo cd in cui noi sentiamo questa questa brevissima confessione di Katia Cabanova nel momento dell'uragano e nel momento in cui l'uragano esplode con i soliti quattro colpi del nome di Katia ecco si sentiva anche il tema di Ah Varvara no? Ah Varvara e to 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 ecco ripreso dall'orchestra perché in Janacek anche i temi dell'orchestra sono in generale ripresi dalle melodie parlate che noi troviamo anche nel 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 testo come viene come viene musicato cosa avviene dopo questa tanto per concludere la storia perché abbiamo anche fatto un pochino tardi cosa avviene a questo punto la ovviamente dopo questa dopo questa confessione la povera Katia viene segregata picchiata e naturalmente lei soffre solo per l'idea di non poter più vedere il suo amato Boris il quale dovrà partire per andare ai confini estremi ai confini estremi della Siberia quindi ci sarà questa separazione definitiva e l'unica cosa che lei desidera è poterlo rincontrare e naturalmente il loro ultimo incontro è fra le parti più toccanti dell'opera quando appunto si dice che in Katia Cabano raccontano più i silenzi che non gli enunciati melodrammatici bisogna pensare a quel meraviglioso abbraccio che avviene fra i due quando si incontrano e che è accompagnato da una da una specie di romanza senza parole dell'orchestra che in qualche modo parla parla del loro amore e soprattutto del loro amore romanticamente impossibile e questo incontro è come dire un incontro di due di due perdenti perché di fatto lei ha già deciso di morire e lui non riesce a fare nulla per tenerla o in qualche modo per portarla con sé come dire sa di essere come dire uno sconfitto in partenza e mentre lui le racconta che cosa avverrà che cosa gli diceva lo zio lei continua a dire c'è una cosa che volevo dirti c'è una cosa che volevo dirti glielo ripete tantissime volte e alla fine quella cosa che voleva dirgli era appunto mentre tu vai in Siberia lungo la strada della Siberia a ogni mendicante che incontri fai le lemosine che preghino per la mia anima ecco questo è un po' l'ultima l'ultima grande scena dell'opera che poi si conclude frettolosissimamente voi noterete questa questa chiusa alla quale Janacek non ha voluto dare importanza così come non ha voluto dare importanza alla confessione quella del suicidio perché lei poi si getta si getta nel Volga e molto frettolosamente recuperano subito il cadavere e il cadavere viene portato di fronte a Tichon il marito che finalmente ha uno scatto di rabbia nei confronti della madre dicendo è tutta colpa sua meglio tardi che mai arrivarci e la 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 cabanica sempre sprezzante anzi in un certo senso un pochino trionfante rimane completamente indifferente ringrazia solo le persone per i servigi che tutti le vengono le vengono a fare diciamo di condoglianze e di aiuto nel recuperare il cadavere di questa di questa donna indegna che finalmente si è tolta si è tolta dalla sua dalla sua vita ecco noi sappiamo che per tutto il tempo per tutto il tempo ha assistito da lontano il Volga a questo punto il Volga alla fine dell'opera si fa sentire a un certo punto c'è questa specie di voce del Volga che canta una specie di vocalizzo primordiale quasi da origini della origini della musica e che potremmo anche considerare come una sorta di allucinazione acustica da parte della protagonista che però sentiamo anche noi in quanto ormai il nostro il nostro cuore e alla fine di quest'opera è tutto quanto con lei con la sua con la sua straordinaria fragilità ecco adesso magari ascoltiamo proprio questa chiusa un po' frettolosa perché sentire proprio tutto tutto il finale non ce la facciamo perché durerebbe otto minuti questo invece dura solo tre minuti dal dal numero 8 sentiamo proprio la veloce chiusa dell'opera e io a voi auguro buon ascolto e anche dal teatro un grazie a franco pulcini conferenza esemplare per chiarezza trasporto e capacità di farci accostare a questa musica non così abbordabile nessuna musica è facile e abbordabile ma questa ancora di meno per cui grazie e noi ci vediamo esattamente tra un mese per parlare di un'altra donna che sensi di colpa non ha ma non l'esco e avremo Carlo Moreni qui con noi grazie grazie